Ciao a tutti ragazzi, io sono Decisipriore e oggi voglio farvi vedere questo gioco No dai, è praticamente The Skips 4 Non ho parole per descrivere un gioco costui praticamente E' un gioco molto carino dai, diciamo così, mi piace la parola gioco di Fiatopi Sì, ho fatto un nuovo, cazzo questo devo guardare i diritti, vabbè lasciamo stare le stronzate Ve lo voglio dire, questo qua appunto è The Sims 4 che ho annunciato che lo facevo nel video precedente Se vi piace, se mettete dei bei pollicioni in su e commentate o condividete Fai quello che cazzo vuoi, tu iscrivetemi, fate quello che volete Spero che ho abbastanza visualizzazione per dirlo Ok, ok, direi di iniziare The Sims 4, cazzo Merda, sono quei dieci minuti di gioco che vogliamo fare tutti nella nostra vita E lo vogliamo avere tutti questo cazzo di gioco, quindi iniziamo Allora Giuoca, gioca, gioca, giochiamo con te Allora Penso di ritornare indietro Sì, sì, cazzo, gioca, direttamente Perché praticamente già avevo fatto Un salvataggio precedente Quindi cose Là Proprio per festare così Velocemente il gioco Non altro Ok Allora Ok Allora Siamo dal nome perché sennò Come lo vogliamo chiamare Come lo vogliamo chiamare Lo chiameremo Sai che vi dico? Fran Stronzo Fran Stronzo che se scrivi Stronzo ti dirà no Non puoi mettere questo nome Ebbene non possiamo mettere Fran Stronzo o si che possiamo mettere Dico il nome A me Fran Stronzo Andiamo qua Barbieri Fran Stronzo Barbieri Ecco Un nome Allora Diamo Qualcosa Ecco Facciamo proprio che E' più bastardo Una testa calda No Testa calda Un folle E' molto materialista Poi Appunto Che faccio Allora Dato che deve essere un ladro Deve essere Uno che Non mangia tanto Perché deve essere Deve essere questo Allora Viniamo Ecco Ecco Proprio a questo Fran Stronzo Barbieri E' uno pezzo di merda Ed è visito In questo modo Di merda Ecco 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 Diciamo di quei piedi Enormi Ecco I boppacci In questo modo Mi piace Questo gioco Se voglio mettiamo Questa Ecco Ma No Però aspetta Ganacchio Perché Mi hanno detto In molti Che puoi cambiare Il colore Della pelle In qualsiasi Tornità Cioè Verde Blu E tutti gli altri Colori Che noi sappiamo E non voglio essere Razzista Usiamo il celeste Tutti quanti hanno usato Il verde Finora Allora Siamo il celeste Cazzo Cazzo Merda Tutto cazzo Ah Oh my god No dai No 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 Ecco Eccolo Ecco Ecco Questo È Fra Storzo Barbie Troppo Bello Dio mio Dio mio È un sogno Che diventa No No Gli occhiali ci vogliono Un liadro Di merda Con la Con il vestito La camicia Quasi Con il ziotto Con una maschera Di real stilo Almeno Spero che sia Una cosa Del genere No No Ecco Ecco Io l'ho detto Questo gioco Rende pazzi Almeno Penso C'è Ma è quello Che sto vedendo Io Fra Storzo Barnieri Se è diventato Epico Pratino Ok Vediamo Cazzo Si concia Questo Capelli Dio Santo Dio Santo Si però Deve essere Celeste Dio Santo Che significa Formali Perché ci stanno Anche il taglio Di ribellino Si si Ci sono Effettivamente Ok La mia vita E' finita E' finita No No Basta Fare i video Ha vinto C'è C'è In effetti Oh mio dio Dio santo Che vestiti Che V E' Stratiti Ecco Dico Lo vistiamo Ma non voglio Sti abili Formali Che cazzo C'ha un anello Bene Giusto per farlo vedere meglio Eccolo L'anello Ma guarda quanto Che cazzo Di spalle Ha questo Che cazzo Vabbè Lasciamo stare Allora Ecco Trastronzo Barbieri Dio santo Ancora lui E' questa cazzo Di concetto La barba Mi ero dimenticato No Dove sta Dan Dan Bizzaria Sei Sei tu Dan Cristo santo No Non voglio Non voglio Crederci Ma io mi ricordo Che c'era Mi ricordo Bizzetti Barbe No No Questo sembra Hitler No 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 Ancora Però gli occhi Devono essere Cioè Le socialesse Come Mio Dio Sto ragazzo E' famoso Ecco 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 La voce Aspetta E' vero La voce Ecco Per me Lui Ha vinto No no C'è la maglia Bianca e blu Già ha vinto Di su Anzi no Le scarpe Le scarpe Le scarpe Se ci sono Blu Grazie 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 Ti pregono Ok Però Io c'è mancata Tipo una cosa Che già sapevo Pensa che Con le donne Vada meglio Si mi va bene Questo da festa Con le pantomole Così No No Che è Il messaggio I messaggi Qua arriva Il messaggio No dai Cristo santo Che cazzo E Che scarpe Sono Che Hai vinto Veramente Per me Hai vinto Ora basta Basta Cioè per me Cristo santo Non riesco a vedere In faccia Questo Va bene Va bene Va bene Va bene È una cosa Di passiamo a fare Di buono Compriamo Iniziamo a comprare Una ca Chi cazzo Sono Rippal Scherzo L'ho fatto io Allora Tengo un minimo Di 20.148 E quello Sta 148 In più 36 Porca Giota Forse Mi è cominciando A morire Di qua 40 150 120 8000 Finalmente C'è una Cazzo Sì Ammobiliata Perché Ammobiliata Grazie E finalmente Abbiamo creato Il nostro Sì Gli abbiamo Dato Una casa Per dove stare Dove vivere Io direi Che La finiamo qui Con il nostro Fan Palla Franz Stronzo Come cazzo Si chiama Barbieri Chiamiamolo Barbieri Che forse Barbieri Barbiere Va bene Sposto Invento Di microscopi Sì Questo gioco È praticamente La genialità Fatta Ed eccolo qua Il nostro Barbieri Caro Salve Barbieri Ok Ragazzi Io chiudo qui Il video Spero che Come cazzo Cammina figo Ok Spero che il video Vi sia piaciuto Alla prossima